Direttore, si pensa al futuro della Casertana, nuovi progetti, nuovi soci che potrebbero entrare a far parte della società? Nuovi progetti, nuovi soci è ancora di definito niente, c'è una serie di contatti per fare in modo che questa società possa rafforzarsi perché è innegabile che per assicurare un futuro alla Casertana è necessario, indispensabile, che oggi si siedano ad un tavolo una serie di imprenditori che possano garantire un futuro sereno. Lei ci può parlare di questi imprenditori, come l'hanno contattato, come si sono avvicinati alla realtà della Casertana? Io, questo ormai noto, sono stato contattato dal signor Nicola Di Matteo che è un imprenditore nel settore delle costruzioni che già ha esperienze calcistiche di natura professionistica, lui è già stato dirigente a Dimola ed a Ferrara, due piazze che hanno fatto calcio importante ma con passioni completamente differenti, lui è un ex casertano che ha voglia di vivere questa esperienza, anche se dà come presupposto perché questo possa avvenire che insieme con lui ci siano 4-5 persone che possano poi progettare un futuro. E' anche un imprenditore che sa benissimo che prima di discutere del futuro della Casertana deve andare a discutere con il presidente Sparaco che è il proprietario del titolo della Casertana anche perché questo è il modus operandi di una persona seria. Forse ancora un po' troppo presto ma più o meno quali potrebbero essere le finalità di questa nuova accordata? Garantire un futuro. Io credo che oggi i mecenati non esistano più. Voi avrete eseguito sicuramente l'intervista rilasciata dal presidente Bizzarro il quale alla fine della partita dice chiaramente che il momento economico è particolare e che lui probabilmente ha il dovere di dare più attenzione alle sorti della sua azienda che a quelle del Marcianise. Tanto è vero che si augurava che ci fossero imprenditori disposti a continuare il suo lavoro che è stato un lavoro eccellente.